ehi la ciurma io sono mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio in cui siamo di nuovo uno di quelli ambush stupidi del manga e qui dobbiamo tira giù 18 attaccati ma siamo fuori di testa dobbiamo sfruttare un po' il fumo a nostro vantaggio allora io sto qua è avvenenato sì questo chi è ok e julia la mettiamo qua dietro è avvenenato tre volte uno può essere avvenenato tre volte ma siamo scemi tutti lontanissimi per me è quello proviamo vai ahia ma c'erano dei pilum pure dei kaltrops ma io non mi muovo allora scusate un attimo 17 ne ho tirato giù ancora ma siamo fuori di testa ma come il piacere non ho nient'altro la distanza purtroppo ma lui ha preso non ha preso una torcia lui scusate ma lui ha una torcia buona 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 Prendi la torcia, torna qua Tu anche, prendi la torcia Non c'è più torcia, va bene E dovevo fizzare lo scudo, porca miseria E' che forse ce la si fa ancora, nonostante tutto, però Devo sfruttare l'interrupt di Yulia probabilmente, perché Così almeno riesco a fare due attacchi a questo che uno Tutti si muoveranno per forza in quest'area Aia! Aia! Yulia può farlo l'interrupt della miseria Ah, tu! Bravo! Tu invece, quello non lo puoi vedere Lo puoi vedere qualcuno là dietro? No Vai su questo, allora Ma prima vediamo quello che Usa il Focus E poi lo generiamo Il Focus Ok, ma tanto c'è il fuoco Per cui dovrebbe Vinire in fretta Allora Allora Ok Proviso di Calthrope Quindi non mi muoverei da qua No, il Warcry non serve a niente Dovrei Buono Ottimo Ottimo C'è ancora lui Lui ha delle cose Enrich 2 No Può al massimo curare Ma ci sono state gente avvelenata Per cui Non posso farci Gronche Lui può Assistere a fixarsi Lo scudo No C'è un'altra Che arrivano di qua Mi sa di no Per cui Tornerei qua In zona Anche con lei Eh, le fuga La parolazione Ma Ma Vaffanbrodo Quello si è ritirato In piedi Mi ha dato un achievement Per cui Mi ha dato Di incapacitare un tizio con lo scudo Senza mai Far danno Lo scudo Ed effettivamente Per l'abilità nuova Dell'arco Che c'ha lei Allora A Yulia Metterei di nuovo Il Ma c'è anche Per il caltro Dovevo Scusate ma Dovevo scusate ma E' poi E' un po' Che c'è In vitale E' un po' Che c'è E' un po' con gli altri. Grandi, Julia sta tirando giù tutti. Ahia lui non è messo bene. Ma fatti furbo. Cambio e cura. Ah ma è l'ha curato prontissimo, è come nuovo. Vai. Aspetta, aveva l'azione con il bonus sui flanked, vero? Sì, più 100% ai flanked. Lo scudo per cui. Facciamo così. Tu vai. Bravissimo. Non è che arrivano gli inforti qua che noi abbiamo da passare il tempo. Vabbè stia ora è sedato, diciamo, quindi fa ancora più danno. Buono. Lui ha recuperato lo scudo, ottimo. Ma ha poco movimento, vabbè non è un problema. Allora, andiamo qua. Tu, Julia, non è che hai molto possibilità di muoverti, però... Mi preoccupa di fare PALLO. brava. Buono. Questa però non ha un riccio o qualcosa, per cui... Eh, però può fare il giro. Dai. Quanti... Sì, è il giro. Vabbè. Ah, sì, è il giro. Vabbè. Aia. Lel. Bestia. Tu che sei veloce, riesci per caso a... Vabbè, gli va addosso se non... Julia non penso che riesca a prenderlo. Perché è in cover. Ah, però c'ho il lure. Ma non è più in cover. Mi diamo un po' di fuoco a fiamme. Non so dove spawnerò gli altri due, ma... Ciao. Da qua, vabbè, dai. Ce li siamo gestiti molto facilmente, per fortuna. Nonostante tutto. Allora... Vai qua. Tu anche... Tu riesci a scendere a qualche modo? No. Beh, sì, dai. Non proprio efficacemente, ma... Julia, tu fai che venire qua? Fammi sognare con un bel interrotto. Uno. Oh, Julia con sto arco è proprio fenomenale. Oh, ha un tatuaggio con dei numeri romani. 17. 17. Allora, la prima non direi. Sì, va bene che porta sfortuna, ma va bene. Allora, o... Li... Diciamo... Controlliamo per vedere se hanno qualcosa con loro. Oppure andiamo a cercare a inseguirli. Io proverei a seguirli. Uno di loro fuori e ha lasciato dietro questo cammette. E' romano. Ma perché i romani si debbessero loro come questo? Quando ottengo le mie mani su loro, il numero di morte sarà una scelta più appropriata di tatuaggio. Ok. Allora, facciamo un po' di... Raccolta oggetti qua. Ne è scappato uno. Ci sarà forse qualche cosa legata... Dai! Ok. Legata al... All'accordo per cui hanno ucciso l'Ukullo, insomma. Ok, visto che abbiamo fatto tutto possiamo andarci. E' comunque tutto molto sospetto questo. Ma... Sappiamo che c'è gente che ce l'ha con noi. Perché c'è gente che ce l'ha con il nostro padre e c'è gente che ce l'ha con l'Ukullo. Di conseguenza... Facile che sia così. Facile che sia così. Allora... Ehm... Prendi questa e invece l'afrorum la manderei a... Preparare la cena. Ma io non volevo andarla. Torno in giù. Allora, l'afrorum ha finito. L'afrorum va... Prendi un altro po' di cibo. Poi ce n'è ancora la soprano. Ma... Andate a prendere l'Iron Nine. Intanto entriamo qua così almeno costruiamo finalmente la... Speculator Tent livello 2. Che dovrebbe darci più replenish. Quindi un pochettino più di... Di comodità insomma. Speriamo. Dai. Hop. E dai eh. Allora. Outpost management. Upgrade. Speculator. Legatus Tent. Vai. Aaaaah. Molto meglio. Ma lascia stare. Adesso però come funziona qua il discorso. Qua... La Ford? No. Noi ci interessava la Factory. Ma ci serveva un... Un Lambert. Però possiamo andare qua sulla Forgia. Ma non ce ne frega un cavolo della Forgia però. Qua... Di cibo tanto non ne vorranno mai. Nella vita. Ne abbiamo una vagolata di cibo ma... Di scuro non lo vogliono. E infatti hanno tante razioni. Possiamo vendere un po' di schiavi. Vediamo un po' di schiavi. Ne abbiamo di schiavi eh. Per cui... Poi... Ah ma... 12 schiavi sono mille denari. Eh allora te li vedo. Con molto piace. Eeeh... Fanno replenish. Che così diventeremo poveri. Eh infatti. Non fatti. Eeeh... Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. E buona giornata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.